Ciao ragazzi, ben ritrovati dall'Inter di Futuro qui a cercare di creare del calcio inter stellare per voi Oggi speriamo possa essere l'ultima partita che ci serve per arrivare, l'ultimo episodio che ci porti in divisione 1 Ci mancano 3 punti ragazzi, letteralmente 3 punti per la promozione, veramente ad un passo Molto dipenderà dall'avversario ma soprattutto diventerà, tutto dipenderà dal nostro modo di giocare Bisogna essere compatti, bisogna essere pronti per una partita decisiva Ragazzi, poi potremo concentrarci sull'evento online, sul Championship Qualifiers Magari, vedere se riusciamo, credo dovremmo riuscire a qualificarci per il round 2 Ma è tutto da fare, ancora non ci ho messo a mano, vi dico la verità Ma voglio e devo giocarci assolutamente perché in palio ho visto nel round 1 ci sono anche delle monete Quindi ovviamente un motivo in più, un incentivo in più per affrontare gli avversari in quell'evento Vediamo l'avversario di oggi come al solito ragazzi, io vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti perché mi aiuta tantissimo e vi ringrazio in anticipo per questo Vediamo Quale sarà il nostro avversario di oggi E questo per esempio è interessante, devo utilizzare anche il tiro sensazionale con il colpo di testa Non lo faccio mai in realtà ragazzi Terza divisione ucraina sulla carta Sulla carta ragazzi Abbiamo avuto un matchmaking favorevole Però lo sapete Poi la partita è tutta da vedere Ma il calcio, la palla è rotonda E il calcio è uno sport molto complesso Senza storie Cordoba al posto di Devray che non è in forma Per il resto direi tutti abbastanza bene Guardate qui che giocatori ma Dovrei giocarmi quadrato Perché ovviamente E anche frattesi al posto di Miki Vediamo un attimo il nostro avversario Formazione super classica con un epico che è Dida Costa Curta è quello in regalo Mbappé, Salah, Salah col boost Under col boost Vinicius Junior praticamente il più forte del gioco Col boost con Hazard del Real Madrid Penso sia una carta abbastanza vecchia Di Hazard 95 Madison centrale Altra scelta interessante Noi andiamo a mettere le marcature sulle ali Come il nostro solito Mbappé da un lato e Salah dall'altro In realtà solo Salah col boost Mamma mia ragazzi Eh diciamo che le aspettative adesso sono parecchie Perché l'avversario sembra sulla carta più debole Quindi Fallire questa opportunità Che sembra veramente importante Per E' veramente semplice Sembra un facile match point Per andare in prima Ma me la sto tirando ragazzi Ne sto parlando già troppo Concentrati Per questo Ucraina Inter Si parte Subito in avanti Ma la palla è recuperata dall'Inter Mamma mia buco enorme per Adriano Calcio col sinistro Adriano Subito Attenzione a questa palla recuperata da Ciaranoglu Molto bene Si fa vedere Frattesi Che riceve Scarta l'avversario calcio La palla che resta lì Mamma mia si salva Poi Barella di nuovo Recupera il polone Calcio col destro E' la prima parata di Dida Andiamo qui Ciaranoglu si accontenta dalla rimessa laterale E va corto da Frattesi Si gira ancora Frattesi Tutto chiuso di nuovo da Ciaranoglu In aria per Di Marco A cercare Lautaro Non era pronto Lautaro a ricevere Inter subito Molto offensiva in questo caso Buona azione Ripetuta Un paio di tiri Poi Barella Recupera subito il pallone Riparte allora Frattesi Si fa vedere Lautaro Visto e servito Il capitano A cercare di nuovo Frattesi Buona la palla Di nuovo per Lautaro Tutto chiuso E qui ragazzi C'era il fallo però Poi di nuovo Di Marco a recuperare Si vede di nuovo il capitano Che prova a rientrare Per l'ennesima volta Senza successo E allora Salah Che cambia gioco Dall'altro lato Ma c'è Pavard Che anticipa E serve Frattesi Prova ad andare da Triano Anticipato Di nuovo l'Ulcraina Con un passaggio lungo Ma le nostre marcature ragazzi Funzionano ad hoc Poi l'1-2 Che non funziona La palla recuperata Dall'Ucraina Neanche sa come Un po' di rimpaglia A centrocampo Poi Hazard Con un numero su Frattesi Di nuovo Frattesi Dovrere questo pallone Sbaglia l'appoggio Però E allora di nuovo Hazard centralmente Con Quadrado Che fa Una gran chiusura Riparte Palla al piede Velocissimo Cercare Adriano Non era per Quadrado Ma c'era Frattesi Che si stava infilando Poi un altro anticipo Forse fallo Ma si continua C'è Frattesi Col pallone Poi Lautaro Prova ad andare La palla sul sinistro E costretto A girare su se stesso Ma chiuso Raddoppiato Corre in avanti Attenzione Finicius Iuno La palla che sfila C'è Cordoba Senza troppi problemi Poi Pavard Che va direttamente Da Frattesi Che appoggia di testa A Adriano Lautaro Non anticipato Nulla di fatto qui Poi di nuovo in profondità Pavard Di nuovo attentissimo E allora l'Inter Che può ripartire Con insistenza Se ne va a Quadrado Che prova a servire Frattesi Sulla corsa Ma viene fermato di nuovo Partita molto confusa Con tanti errori Questo passaggio Un po' Supponente Un po' superficiale Di Adriano Tessina Vinicius Centralmente Fermato da Barella Allora di nuovo l'Inter Di nuovo A cercare Adriano Che gran chiusura Di Teo Hernandez Che importantissima Frattesi Altro recupero A servire Adriano Stavolta lanciato L'imperatore Che si accentra Calce col sinistro Murato Ancora una volta Chiusura Di Cordoba Che come scelta Si sta rivelando buono Poi questo erroraccio Attenzione Mena male Che c'è Bastoni All'alga per Di Marco L'Inter Che prova adesso A spingere Sulla fascia sinistra Si fa vedere Lautaro Che può già male A Celanoglu Poi di nuovo Cordoba Con un grande anticipo Quadrato può andare In aria C'è Adriano in fuori gioco Che se il colpo Destra ha finito alto Facciamo fatica A fare le scelte giuste Poi una volta arrivati Sulla tre quarti avversaria Non c'è in avanti C'è Bastoni Perfetto Un po' meno C'è Lanoglu Che poi si va a riprendere Il pallone di prepotenza Di nuovo Barella L'Inter che prova a liberarsi Adriano A cercare Lautaro Che perde questa palla Con un contrasto Abbastanza Da dietro Sembrava quasi impossibile Riuscire a perdere lì Mamma mia Buconorme Buconorme C'è Under Di Marco Che chiusura Di nuovo a cercare Di Marco Scende col pallone Il terzino italiano Poi c'è Lanoglu A cercare Lautaro Ma è sbagliato il passaggio E qui Vinicius Mamma mia ragazzi Cordoba è scivolata Lì Se si faceva fallo E si regalava Sto gol Era un peccato Palla in avanti Per il quadrato Controllo così così Non riesce a tenere il pallone Inter Molto imprecisa Che sta giocando un po' Al di sotto Le sue aspettative Anche questo errore di Barella Brutto brutto Che poi riprende il pallone Prova a ripartire di nuovo L'Inter Con Lautaro Che vada Frattesi E per tutto chiuso Non vediamo supporto Bravo Frattesi Che vada Quadrado Sulla sinistra Guadagna il fondo Il cross al centro Per Lautaro Respinta Brivida per il recupero Con Cianoglu Che prende un calcione Quarantatresimo 0-0 Inter Qui un pareggio Ragazzi Ci farebbe perdere Punti sicuro Non c'è dubbio Su questo Vediamo se ci saranno Dei cambi Non ci saranno Dei cambi Cianoglu Quello di Vinicius Junior Tra l'altro Con una buona occasione Che forse Paradossalmente È la più Clamorosa Delle azioni Che si sono avute In questa partita Molto più delle 5 Dell'Inter Tanti 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 Nera azzurri Però ribattuti Quindi che mai Veramente sono giunti Ad impensirire Il portiere Forse parte 1 Ricordo la botta Di Barela Da fuori Da fuori aria Respinta Agevolmente Da Dida Inter che deve fare Di più Indubbiamente È un pareggio Che qui Veramente Conta come una sconfitta Sarebbe un peccato Per l'Inter Non approfittare Di questo matchmaking Favorevole Per raggiungere La prima divisione Evi ragazzi Si perdono tutti bene C'è Quadrato Ovviamente Su cui potremmo Spingere un pochino Di più Però Anche Adriano E Lautaro Stanno bene Non li abbiamo Sfruttati a pieno In realtà poi Siamo rientrati Un po' di volte Con Adriano E Lautaro Ma i tidi Sono sempre stati Ribattuti Purtroppo per noi Si riparte E l'Inter Comincerà il secondo tempo Bravo Frattesi A servire Quadrato Che guadagna il fondo Il cross al centro Sta arrivando Adriano La palla che resta lì Mamma mia Il difensore che ci arriva Poi Cordoba Sovrasta Vinicius Serve Barella A cercare di nuovo Di Marco Ah era per Ciala Che si era fermato però Peccato Allora va un bisacca Palla in avanti Poi Barella Che l'alza Per Adriano Che serve Frattesi Ancora in aria A cercare Adriano Non ho capito Che stop ha fatto Ragazzi Veramente non l'ho capito Buona la chiusura Di Di Marco Di nuovo Poi Frattesi In aria Per Adriano Il tiro Ho deviato la palla Per Lautaro Che calcio Ragazzi Io non so Perché è andato così piano In quel frangente Per girarsi E' passato un secolo Poi un der Velocissimo Mamma mia Che buco C'è Hazard centralmente Bravissimo Cordoba a chiudere Altro errore qui Mamma mia Varco Dai Adriano Mamma mia Ragazzi Questo fatto che vanno A tre all'ora E lo stavversario Che spazza Non ho capito Però Perché in rimessa laterale Di Da Un po' nel panico Infatti perché doveva andare in pausa Pure questo passaggio Ragazzi Di Lautaro Per Adriano Inconcepibile Non era neanche pressato Un passaggio veramente Bruttissimo Considerando anche Le qualità tecniche di Lautaro Pepe come difensore centrale Non l'avevo notato Noi siamo pronti Stiamo aspettando Per come ha messo pausa Ragazzi Non era perché Doveva fare un cambio Secondo me Perché Deve Un attimo Sarà Si sarà dovuto allontanare Dal gioco Attesa interminabile Una squadra Comunque tra l'altro Di tutto rispetto I booster I booster Secondo me Sono Interessanti Da avere I giocatori col booster Certo bisognerebbe un attimo Ricordarsi poi Quando sono in forma B E in forma A Perché altrimenti Il boost Non 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 viene attivato Perché quello poi si attiva Solamente in base Alla forma fisica Allo stato di forma Del giocatore in questione Però è un'idea carina In cui le carte Diciamo Prendono Hanno una Un potenziamento maggiore Hanno un valore maggiore Nel caso in cui Il giocatore è in forma E nei trezzi ancora Non ci siamo Vediamo intanto Se ha fatto qualche cambio Io Ne dubito Tutto uguale così Con un derasar Ci siamo Ci abbiamo fatta Come vi dicevo Non era per un cambio Infatti Che brutto Questo Tentativo Bravo Frattese di recuperare Poi c'era Direttamente da Adriano Provato ad accentrarsi Qui Adriano Provare a fare Veramente il numero Parella sul fondo Rosso al centro Esce Dida Vale in avanti Salah Bravissimo Bastoni lo ferma Senza troppi problemi E allora Cialanoglu Cialanoglu Una botta Clamorosa Che giocata Che ha fatto Cialanoglu Inter in vantaggio Un tiro Violentissimo E l'Inter Passa in vantaggio In solitaria Cialanoglu Ci ha pensato lui A portare L'Inter in vantaggio Bello Bello anche C'era Lautaro Qui Cordoba in anticipo Mamma mia Che è il roraccio Per un pelo Frattesi a cercare Che brivido Qui con quadrato Che riesce a mettere fuori Dove è arrivato Qui con questo intervento Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi E c'è il falo Non capisco Che sta provando Nel suo avversario Passaggio Completamente sbagliato Un po' di pretattica Nei movimenti Ma alla fine Mamma mia Cordoba Non senza qualche brivido Alla per Di Marco Che ci mette però Un'eternità a stoppare Qui Lanciato Cialanoglu Palla al piede Non riesce C'era A dare il pallone Bastoni In completo ritardo Que Era un tiro Ragazzi Lì Sapete Qual era Il colmo E' che Se uno dei difensori Fosse intervenuto L'avremmo praticamente Messa noi dentro No ragazzi Ma cos'è sto passaggio Di Marco ci arriva In qualche modo Palla che non passa Che anticipo di Pepe Veramente senza senso Questo anticipo di Pepe Dai bare Ancora per Ciala Fermato Senza troppi problemi Tra che gioca un po' Col pallone Non ci credo Non ci credo ragazzi Al 91esimo Bucco centrale Clamoroso l'errore Nostro avversario festeggia L'unica azione Nella partita Buttato alle ortiche Qui Dovevamo Semplicemente Andare in avanti Ragazzi Non lo so Spazzare Non c'è più tempo Ragazzi Incredibile Falliamo Clamorosamente Il passaggio In prima divisione Contro un avversario Totalmente inferiore Forse per Per La pressione Forse per Per tanti errori Perdiamo addirittura 5 minuti Ma non è quello del problema Perché siamo comunque Sempre a una partita Dalla Dalla prima Sta di fatto però Rimandata la promozione Ragazzi Con una partita Veramente secondo me Solo di 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 Pressione nostra Un peccato Veramente un peccato Ragazzi È tutto però Per l'episodio di oggi Vi ringrazio per aver guardato E ci vediamo alla prossima E ci vediamo alla prossima Grazie a tutti